Riccardo Arena, dopo Sanità alla sbarra è quello che veramente ami, lei adesso ha scritto anche un nuovo libro, si intitola anche oggi Non mi ha sparato nessuno, le chiedo subito perché ha scritto questo libro e cosa il lettore trova in questa ultima fatica letteraria? Io ho definito questo un non libro perché viene raccontata una storia un po' surreale e con la tecnica giornalistica di mettere insieme un dossier contenente agenzie di stampa, registrazioni di telegiornali, citazioni religiose e quant'altro, è sicuramente un libro che però racconta tante storie vere accadute in Sicilia e le mette insieme e cerca di dare una spiegazione ai fenomeni strani delle stragi, delle responsabilità esterne delle stragi di tanti anni fa attraverso l'occhio del romanziere e non quello del magistrato Si parla anche di intercettazioni, in un periodo in cui si parla in maniera molto assidua di intercettazioni ci riferiamo al caso Crocetta, Tutino, L'Espresso Si, si parla anche di intercettazioni perché è chiaro che nella raccolta di questo dossier ci sono anche le intercettazioni fra determinati personaggi che si raccontano in maniera un po' più reale di quello che possa avvenire quando vengono sentite le persone e sanno di essere ascoltate Sicuramente al di là del fatto specifico di Crocetta è evidente che le intercettazioni sono un mezzo di acquisizione della prova che nel tempo resiste e come Voi come ordine regionale dei giornalisti di Sicilia avete avviato anche un'indagine per capire esattamente cosa è accaduto in merito alla pubblicazione dell'articolo su Crocetta e Tutino dell'Espresso Le chiedo sostanzialmente che idea si è fatto di questa vicenda? È un'idea che tengo per me perché ci sto lavorando con tutto il Consiglio e stiamo naturalmente facendo gli accertamenti che la legge ci riserva naturalmente posso dire da cronista giudiziario che al di là della contestazione di una intercettazione che secondo le procure non c'è, c'è altro materiale depositato e certo che dà uno spaccato di quella che è la sanità siciliana purtroppo in mano al cerchio magico del Presidente della Regione e purtroppo non è un bello spettacolo Grazie a tutti! Grazie a tutti